Sul palco del nuovo teatro abeliano dove Renato Laforgia, candidato della Civica De Caro, presente il suo programma, il candidato sindaco del centro-sinistra racconta di un giardino creato da un consigliere circoscrizionale a Santa Rita, rimboccandosi le maniche insieme con un'altra ventina di persone, esempi di quel percorso partecipato che Antonio De Caro vuole applicare alla guida di Bari. Al sondaggio che lo dà in testa di otto punti, il centro-destra ha risposto, sostenendo che Di Paolo è sottostimato e che le elezioni può vincerle lui al primo turno. È peccato che il centro-destra due settimane fa aveva i sondaggi, gli stessi sondaggi, voleva cambiare il candidato. Noi andiamo avanti così, i sondaggi ci danno avanti da tanto tempo, dall'inizio della campagna elettorale, siamo in crescita. Onestamente più che i sondaggi preferisco pensare all'affetto delle persone in questi giorni, le persone che incontro per strada. Sono contento già di essermi candidato e sarò ancora più contento se avrò l'opportunità e l'onore di fare il sindaco della mia città. Con la Forge Accanto, che è medico ma anche presidente del CUS Bari, il riferimento al mare non poteva mancare. Non abbiamo ancora un rapporto stretto con il nostro mare, speriamo di recuperarlo nei prossimi anni, sicuramente a nord con la riqualificazione del lungomare di San Girolam, il waterfront, che inizia tra qualche settimana, non per merito mio, ma per chi ci lascerà in eredità questo lavoro. E poi dobbiamo sognare il grande lungomare a sud, lo possiamo fare perché dieci anni fa abbiamo sognato di spostare i binari.